Filippo Moroni, prego voi due qui perché siete i protagonisti di questo segmento, reti di impresa informali, artigiani che anziché farsi la guerra o competere poi fanno squadra. Cos'è Fonderie Digitali? Fonderie Digitali è una rete soggetto, un soggetto giuridico, è una rete formale, è un contratto di rete, è una nuova idea, un nuovo concetto di condivisione e di cooperazione. Siamo una cinquantina di aziende fortemente verticalizzate, sono piccole aziende che con grande impegno e con grande lavoro portano avanti i propri progetti coadiuvati dal nostro essere abilitatori. La nostra idea è quella di aiutare i giovani e i loro progetti coadiuvandoli dal know-how e dagli skill dell'artigianato e del saper fare artigiano. Passo la parola a Filippo che sicuramente come CTO e responsabile tecnologico vi sarà spiegare meglio quello che fondamentalmente Fonderie oggi è in grado di fare. Filippo, allora raccontaci bene cosa fate, intanto dietro lo schermo vedete il portfolio multimediale, alcuni lavori che hanno realizzato le fonderie digitali. No, vedevo la macchina di Ritornar Futuro. E' la macchina di Ritornar Futuro, ci sembrava l'idea migliore per spiegare una macchina super intelligente che abbiamo immaginato, progettato e costruito. E' uno degli otto progetti che abbiamo portato qui alla Maker's Fair e soprattutto abbiamo deciso di usare quello che normalmente i costruttori non usano, e cioè la OBD. La OBD è l'uscita magica da cui tutta la parte elettronica della macchina in qualche modo parla con il nostro meccanico, però sono dati noti e quindi abbiamo deciso di sfruttarla e trasformarla con un navigatore, quindi il progetto è legato più o meno all'isola del navigatore, normalmente occupata dal navigatore, gli abbiamo dato molta più potenza e l'abbiamo collegata a internet. E' assurdo, ma in effetti le nostre automobili non sono collegate a internet. Il fatto di mettere un'auto in rete e la rete in un'auto ci permette di realizzare una serie immensa di controlli, di poter collegare la macchina al nostro garage, al nostro giardino ortotica, piuttosto che che presenteremo dopo, ci permette di gestire il riscaldamento di casa, di parlare col gommista, di parlare in qualche modo con la casa produttrice e anche con l'assicurazione. Questo vuol dire anche, chi di noi è più virtuoso in automobile, per esempio di avere un'analisi del proprio stile di guida, che significa anche abbassare i premi assicurativi, vuol dire abbassare il rischio di incidente, vuol dire aumentare statistiche utili che non c'entrano nulla con la violazione della privacy, ma statistiche utili per la gestione del traffico, quindi nuvole di puntini che sono poi gestite in una città un pelino più intelligente di quella in cui oggi siamo. Abbiamo un altro stimolo, ci hai detto anche una parola un po' strana, orto botani, cos'era questa parola? Orto è qualcosa? Ortotica è un misto fra la parola orticultura e domotica. Nasce dall'idea di voler rimettere in condizioni la terra dei fuochi, di tornare di nuovo a produrre agricoltura sana e pulita. La nostra idea è quella di utilizzare la superficie, visto che non possiamo più utilizzare il terreno che è inquinato, ahimè, in maniera ormai quasi definitiva e quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione di chiunque la tecnologia di coltivazione idroponica e abbiamo realizzato un sistema totalmente automatico, gestibile dal nostro cluster car piuttosto che dal nostro telefono, piuttosto che da casa. È in grado il sistema di gestire automaticamente tutto il nutrimento della pianta, la gestione del pH, qualsiasi, tutti i parametri che il nostro enabler, che racconteremo dopo, che è la scheda che dà vita ai nostri progetti di domotica, è in grado di fare in maniera totalmente automatica. In realtà la raccontiamo adesso perché il tempo scorre inesorabile, quindi l'ultimo stimolo che noi abbiamo, e poi ho la curiosità di chiedervi, ma voi siete più scienziati, makers, artigiani, cosa siete? Qual è il nuovo profilo che emerge? Vorremmo chiederlo a te. La risposta arriva. Enabler è una scheda che abbiamo lanciato la makersphere, realizzata in collaborazione con Tesla, EMS, e se possiamo dire in qualche modo Arduino dieci anni dopo, perché realizza una serie di funzioni tipiche, quindi sensoristica che entra, attuazione che esce, ma è soprattutto una scheda perennemente collegata a internet, ovvero è la scheda che realizza il concetto di internet of things, l'internet delle cose, cioè dare intelligenza qualunque oggetto. Quindi chiunque volesse, non solo tra l'altro a programmatore, perché l'abbiamo immaginata anche facile da programmare, facile da gestire, quindi solo per librerie, è completamente programmata su internet, quindi non bisogna mettersi lì con i cavetti a collegare la scheda, perché la scheda è lei stessa, intrinsecamente collegata alla rete, ci permette poi di gestire una serie di cose. Qui abbiamo portato Clustercar, che è collegata via Enabler, Ortotica, che è collegata via Enabler, e altri progetti che chiaramente si svilupperanno in seguito. Cosa siamo noi? Nasciamo designer, ma in realtà siamo un po' così empiricamente di tuttofare, degli artigiani. Poi oggi siamo venuti in camicia e camicia, perché ci piaceva questo connubio tra fonderie digitali e poi un sapere anche magari raccontare le storie. E anche un po' filosofi, perché dal loro sito si legge che in ogni atomo c'è energia e quando gli atomi si combinano si formano nuove molecole e nuove leghe. E su questo dovremmo ringrazio. Su questo ci salutiamo, però. Grazie di essere stati con noi. Pietro Gabriele, Giorgio, Filippo Moroni, grazie. Che trovate!